Buon pomeriggio e ben trovati con noi a Caserta Sera Stadio, lo spazio dedicato al dopopartita. Ascoltiamo la sigla, ci ritroviamo subito dopo per i dettagli. Il ritorno sul rettangolo amico del Ferrante in questa ventunesima giornata a 21 giorni dall'ultimo match, la sconfitta con il Venafro. Un incrocio con vista sull'appuntamento centrale della stagione, la finale di Coppa Italia del prossimo 4 febbraio con il vasto Girardi, ma soprattutto l'occasione per il Treppini Matese per blindare la sesta piazza dall'attacco delle inseguitrici, una delle quali, la Frentania, avversaria di giornata. Aveva simili coordinate l'ultimo impegno prima della sosta per il Treppini Matese di mister Romagnini. La formazione di Piedimonte era chiamata a ricevere i pugliesi della Frentania, 11 neopromosso in eccellenza e capace, dopo un avvio in sordina, di risalire la china e posizionarsi a metà classifica. A livello di strisce di risultati utili, tra l'altro, intento dei bianco-verdi di casa in avvio era quello di dare un seguito al successo a Campobasso e dal pari a Sesso Campano, che avevano contraddistinto le ultime due trasferte consecutive. Al novantesimo, il sintetico del Ferrante ha consegnato un 3-1 finale per il Treppini Matese. A fine gara, al microfono del nostro inviato, Emilio Bianchi, ritroviamo Mr. Tanga, Mr. Romagnini ed il presidente del Treppini Matese, Pepe. Con Mr. Tanga, allenatore della Frentania, una partita non giocata ai massimi livelli dalla sua squadra, forse. Sì, siamo venuti in 13, quindi già questo era un indice di debolezza, nel senso che purtroppo non si può concedere una partita così importante e difficile, non si possono concedere 7-8 assenze, anche qualcuno di qualità, quindi la buona volontà sicuramente non basta, ci vuole anche qualità per poter poi fronteggiare avversari come la squadra del Treppini, che è una formazione di tutto rispetto. Comunque la classifica non è che sia tanto cattiva, no? No, 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 noi stiamo, anzi, rispetto a come siamo partiti stiamo andando anche, diciamo, oltre quello che erano le aspettative, nel senso che per adesso siamo fuori dal pantano della bassa classifica. Quindi buone prospettive per il futuro. Sì, guardiamo in avanti, speriamo di affrontare comunque queste gare importanti con la rosa al completo, anche perché non solo l'assenza, ma anche Tarantino, che per noi è importante, l'attaccante e l'altro centrale difensivo, hanno giocato con la febbre adesso, quindi era difficile oggi poter tornare con un risultato positivo. Un'ultima domanda sul Treppini, che ne pensa? No, è una squadra che già ho apprezzato, ci siamo incontrati in Coppa Italia, ci siamo incontrati in campionato, quindi già ho apprezzato le loro qualità di gioco, di dinamismo, perché è una squadra molto dinamica, quindi dove in avanti sicuramente ha delle qualità tecniche importanti, che per noi era difficile, quindi oggi con le assenze di Pagano, di Aurelio, insomma avere poi la possibilità di poter far bene. Allora, mister Romagnini, primo tempo ha giocato un pochettino al rallentatore, poi la partita viene sbloccata e poi tutto come le previsioni? Ho detto bene, nel primo tempo un po' timorosi, un po' timorosi dovuto anche al fatto che all'ultimo momento abbiamo fatto meno di Napoletano, l'avevamo preparato diversamente la partita, all'improvviso dovevo cambiare formazione, però abbiamo un po' approcciato male. Fortunatamente oggi era in Stato di Grazia all'Ancelotti, un po' ci ha dato una scossa, oltre al gol ha fatto due assist. Ecco, le condizioni di Napoletano, il pubblico era un pochettino scettico? Ha avuto un problemino, adesso non abbiamo provato a rischiarlo, ecco, tutto sommato noi si aspetta una partita importante, importante un po' per tutti, per noi in primis, per la società, per i tifosi, per il paese, abbiamo un appuntamento con la storia, bello partecipare, penso sia bello per tutto il paese, per tutta la cittadina. Non solo partecipare? Soprattutto vincerla, però già partecipare è una cosa importante, ho preferito tenerla meglio per domenica prossima. Ecco, appunto, domenica prossima, lei come pensa di poter gestire una partita che sulla carta appare un pochettino dalla parte del vasto Girardi? Ma sulla carta, se guardiamo la classifica, sì, è a loro favore, però se vado a vedere le ultime 11 partite, noi abbiamo 29 tra campioni della Coppa, penso siamo allo stesso livello, adesso non vorrei dire, loro sono grande squadra, e lo dice la classifica, noi tranne il primo tempo di Venafro stiamo esprimendo un buon calcio, penso, e anche i risultati stanno arrivando. Poi ho dei attaccanti che possono fare del male a chiunque, anche in altre categorie. Dobbiamo lavorare, lavoreremo tutta la settimana, sapendo e consapevoli di fronte a una grande squadra. Magari con un lanciallotto come quello di oggi? Magari sì, ma anche in altre parti come Venafro, come all'andata appunto con il vasto Girardi, segno a lui. Lui gioca bene con le grandi squadre, dunque ci conto, ecco, la verità. Presidente Pipe, solo una domanda, la partita con il vasto Girardi. Beh, intanto la stiamo preparando già da una settimana. È una finale, la prendiamo per quella che è, abbiamo fatto tanto per arrivarci. Sappiamo che comunque l'avversario è un avversario molto forte di tutto rispetto, è già abituato a finale, tra l'altro ne ha vinta anche una. Noi ci arriviamo lì però molto carichi e con l'entusiasmo della matricola in queste manifestazioni. credo che se andiamo con lo spirito giusto e se siamo consapevoli che una finale sono 90 minuti dove volte a volte non vince il più forte ma vince chi ci arriva meglio. Io senza nulla togliere a nessuno ma credo che abbiamo una chance. Ecco, comunque puoi coinvolgere i tifosi per farli venire ai Serni a domenica. Sì, intanto già adesso stiamo riscontrando un ottimo coinvolgimento da parte dei nostri tifosi che ci chiedono di informazioni sia per i biglietti che per il pullman. Probabilmente il comune di Pedimonte Matese ci metterà a disposizione un pullman per tutti quanti i tifosi che vorranno venire da Pedimonte di Sernia. In più noi ci stiamo mettendo a disposizione e nelle prossime settimane daremo ulteriori informazioni per organizzative proprio per affrontare al meglio questa gara, questo evento storico di domenica. Le prevendite ci sono, abbiamo già comunicato nei bar della città. Siamo tutti noi dirigenti a disposizione per qualsiasi informazione e dobbiamo solo stringersi intorno alla squadra. In attesa dunque della finalissima di Coppa, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Sigla!